Padre Graziano in carcere da otto mesi senza uno straccio di prova. Ad affermarlo è il Vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, nel corso dell'incontro annuale con i giornalisti in occasione delle celebrazioni di San Francesco Sales. Di tutt'altra opinione invece l'Avvocato Nicola Detti, parte civile per il marito e il figlio di Guerrina Piscaia, nel processo a padre Graziano, accusato dell'omicidio della 50enne scomparsa. Credo che il Vescovo non conosca tutto il fascicolo, magari mi stupirà, anche perché non dobbiamo dimenticarci che padre Gratien, che io non lo chiamo neanche più padre Graziano, è all'interno di un carcere sotto misura cautelare perché quantomeno almeno quattro organi giudicanti hanno deciso che lui deve stare sotto misura cautelare. Io ritengo che ci sono più che uno straccio di prova, che come dice il Vescovo per poter ritenere padre Graziano responsabile, quanto meno sicuramente sa e non dice perché è sempre stato zitto, l'unica volta che ha risposto all'interrogatorio ha parlato solamente di soggetti che non esistono. Monsignor Fontana inoltre ha affermato di non aver ricevuto alcuna citazione per partecipare come testimone al processo. Il Vescovo è nella lista dei testimoni, sia nella mia lista testimoniale che nella lista testimoniale dei difensori dell'imputato. È evidente che ad oggi non è arrivato niente perché la comunicazione si manda qualche giorno prima. Io sto valutando se rinuncerò meno perché la testimonianza del Vescovo a me era utile nel caso in cui la diocesi era all'interno di questo processo. Fatto sta che molto probabilmente comunque il Vescovo verrà a testimoniare perché appunto è stato indicato dagli avvocati di padre Graziano e approfondiremo alcuni aspetti. Sempre nel corso dell'incontro con i giornalisti il Vescovo di Arezzo ha parlato del comportamento tenuto in carcere da Gratiena Labia affermando di tenersi continuamente in contatto con il cappellano del carcere per informarsi sulle condizioni del religioso. Sempre Monsignor Fontana ha aggiunto che padre Graziano dice messa tutti i giorni e che ha sempre la Bibbia in mano. Io dico mi stuperebbe il contrario insomma se non avesse questo comportamento all'interno del carcere cioè ci mancherebbe. È chiaro che qui si fa un processo per omicidio e non per altro però mi sembra che dalle indagini siano uscite che lui avesse anche delle frequentazioni quantomeno discutibili. Approfondiremo questo aspetto, vedremo.